Buongiorno e benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, 11 luglio, ovviamente il tema fondamentale su tutti quanti i giornali è le intercettazioni di un responsabile dell'associazione Lombardia-Russia che è anche un collaboratore di Salvini, ovviamente oggi sui giornali ci sono le foto di Salvini che si abbraccia con dietro il cremlino a questo signore e le intercettazioni di questo BuzzFeed, che è un importante sito americano, tirerebbero fuori l'ipotesi che ci potesse essere un accordo tra la Russia e la Lega per far sì che Lenin comprasse con lo sconto del petrolio russo e grazie a questo sconto con 65 milioni di euro addirittura si finanziasse la campagna elettorale della Lega Nord, che oggi non si chiama più Lega Nord, cioè sarebbe un mega steccone di 65 milioni di euro, tra l'altro nelle intercettazioni dice questo signore leghista, dice non sono soldi per noi ma noi li vogliamo per finanziare la Lega. Salvini ha subito detto mai preso un rublo e querelo tutti quelli che si permettono di dire una cosa di questo tipo e ovviamente tutti quanti i giornali oggi giustamente ne parlano perché si tratta di una cosa enorme come potete evidentemente capire, aspettate che qua, eccoci qua, si tratta di una cosa molto importante perché voglio dire no, non vi devo spiegare che cosa possa voler dire una cosa di questo tipo, finanziamenti illeciti, però, però è questo il però, ci sono due considerazioni da fare. Leni ha mai fatto questo sconto? Mai. I soldi sono mai arrivati? Mai. C'è stata qualche cosa che possa legare questa cosa a Salvini direttamente? No. Insomma è una di quelle vicende in cui ci deve essere qualche cosa perché ci sono queste intercettazioni, non si riesce bene a capire i soldi ma ci sono queste specie di millanterie che uno potrebbe considerare tali all'interno di un rapporto che si voleva molto vicino tra Salvini e la Russia e soprattutto sulla Russia molto interessato a quello che avviene in Europa. Altra considerazione che è molto divertente è quella di Daniele Ranieri sul foglio, dice non c'è la prova del passaggio del denaro, ma non c'è neanche la prova del passaggio del petrolio, diciamo così, ma ci sono degli abboccamenti. In realtà l'altra cosa che dice giustamente Daniele Ranieri, quando avviene, quando esce questo documento, esce dopo che Salvini fa un viaggio molto importante negli Stati Uniti in cui ristabilisce un rapporto con gli Stati Uniti e con il vicepresidente degli Stati Uniti. E l'altra cosa che mettono in evidenza in molti è una cosa molto simile a quella che è avvenuta recentemente, come si chiama, in Austria per il cosiddetto caso Strache. Ve lo ricorderete? Quel signore che faceva parte di un partito sovranista austriaco importante che era il governo, che viene pizzicato a Ibiza, nella villa di Ibiza, a raccontare anche in quel caso millanterie riguardo a quello che avrebbe potuto fare per l'oligarca russo. Però lì c'era direttamente il politico che aveva a che fare con questa signorina che veniva considerata una figlia di un oligarca russo. Allora, tutta questa storia in realtà è una storia che nei prossimi giorni ci porteremo molto appresso, così come ci porteremo molto appresso la questione dell'immigrazione. Perché sull'ONG oggi c'è un'intervista di Conte al Corriere della Sera che dice molto banalmente una cosa che Belpietro già rimproverava sulla verità oggi al Corriere della Sera ma dovrebbe rimproverare allo stesso Conte. E cioè che il problema dell'Italia sono gli sbarchi fantasma e non quelli delle ONG. Però dice Belpietro, quando c'erano invece le ONG a cui venivano aperti i porti arrivavano in Italia migliaia di persone. Adesso almeno abbiamo evitato che arrivassero migliaia di persone con queste ONG. Terzo tema di giornata che viene abbastanza sottolato dai giornali ma non giustamente da mascheroni sul giornale è questi test invalsi, cioè i test per vedere quanto i nostri studenti, i nostri figli riescono ad aver colto bene tante questioni tra cui l'italiano. Insomma, la sostanza è che i test invalsi dimostrano che l'Italia è un paese di ignoranti, che i ragazzi non riescono a capire quello che leggono e la frase secondo me più interessante di Mascheroni è che noi abbiamo privilegiato al modo con cui si insegna, la cosiddetta didattica, invece che a che cosa si insegna. Storia, letteratura, grammatica e matematica. L'altro bel tema di oggi è il solito fondo di Gian Antonio Stella, il paginone di Gian Antonio Stella, lo Stato con le autonomie vuole violare la libertà dei sovraintendenti, i sovraintendenti sono quelli che hanno evitato di fare tanti scempi in Italia. Sì, buonanotte. Fra un mese leggerò il pezzo di Stella che ci racconterà per quale motivo non si riesce a fare un piccolo metro di un passaggio a livello, due metri di autostrada perché arrivano i sovraintendenti della regione tal dei tali che impermettono di fare qualsiasi cosa perché si deve tutelare chissà che cosa. Insomma, io trovo che è straordinaria questa cosa dei giornalisti, non gliene va mai bene una, così come la storia di Fubini che tutto indignato ieri si arrabbia perché il fatto quotidiano con la Scacciavillani si accorge che lui per 15 anni non aveva pagato le quote dei giornalisti e la cosa non è grave, io sono d'accordo con Farina oggi, cioè bisogna pensare che è una cacchiata questa roba dell'iscrizione dell'ordine dei giornalisti, dovremmo essere liberi di fare i giornalisti anche senza essere iscritti a questo inutile ordine, ma fino a quando c'è l'ordine, fino a quando Fubini sa che noi siamo in Europa, dobbiamo rispettare le leggi, c'è lui che ce lo spiega tutti i giorni, lui che ci spiega tutti i giorni che dobbiamo rispettare le leggi, non paga per 15 anni l'ordine dei giornalisti e poi quando l'ordine dei giornalisti e qualcuno lo scopre dice vabbè andate a vedere anche magari se non ho pagato qualche bolletta, giravo per il mondo, scusa, 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 stai dicendo che giravi per il mondo e quindi tu non hai visto la cartella esattoriale che ti è arrivata a casa imponendoti di pagare l'ordine dei giornalisti che è un tuo obbligo, un obbligo di merda secondo me, ma che è un tuo obbligo come il nostro obbligo è rispettare i parametri di Maastricht, cioè l'Italia può e deve essere rigorosa perché noi siamo delle merde, mentre tu i tuoi parametri di Maastricht te ne fotti, questa è la cosa favolosa dei nostri giornalisti italiani, Stella, Furbini, che le regole valgono per gli altri, per se stessi, figuri, è la grande solidarietà di Calenda e di tutti quanti, che schifo questa combattuta, ragazzi non hai pagato l'ordine, quindi o fai una battaglia politica dicendo che l'ordine deve essere abolito ma non è questo il tuo caso, o fai il sovranista dell'ordine, o se no non puoi dimenticarti 15 anni di non pagarlo e fare il fenomeno, puoi essere uno strozzo come me, ma non il fenomeno del Corriere della Sera, fantastico Fincantieri oggi che dice Bono attraverso un suo cosa, noi ci servono 6.000 operai, noi li troviamo, in Italia non si trovano più gli operai, i giovani non vogliono fare più i saldatori, i carpintieri e via dicendo, questa è l'Italia della disoccupazione, vi saluto e vi dico sul mio sito nicolaporro.it trovate tra poco il pezzo di Gervasoni sulla Russia e adesso avete il pezzo di Sallustri sempre sulla questione dei soldi di Mosca, ciao!